Musica Serie C, Gubbio al lavoro per la sfida di domenica con la San Benedettese, Cornacchini verso la conferma del 3-5-2 ai nostri microfoni il centrocampista Giacomarro. Esordio da sogno per la Juniors del Fontanelle Branca di Mr. Bellucci che batte 3-0 il Todi. Volle e Sir Perugia tornano i big in vista dell'inizio di Superliga. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con lo Sport, la Serie C in primo piano, con il Gubbio che continua a correre ed allenarsi in vista della partita di domenica con la San Benedettese, in programma alle 18.30 al Barbetti. Difficile che Mr. Cornacchini effettui grandi variazioni rispetto a quanto visto a Portogruaro con il Mestre, confermato dunque il 3-5-2 con Volpe in porta, difesa formata da Burzigotti, Piccini e Paramatti al posto dello squalificato di Erna e poi centrocampo con Calombo a destra, Pedrelli sulla corsia opposta, mediana formata da San Pietro, Giacomarro e Casiraghi con marchi assistiti in attacco da uno tra Ciccone e De Silvestro. Sicuri e assenti gli infortunati fontanesi, Valagusta e Malaccari, quest'ultimo costretto a rimanere ai box per diverso tempo. Oggi intanto il centrocampista rosso-blu Dario Giacomarro ha parlato ai nostri microfoni. Sentiamo. Siamo fiduciosi perché a Mestre abbiamo visto un Gubbio che ha lottato su ogni pallone, che ha difeso bene comunque la propria porta. Secondo me dopo l'1-1 potevamo anche fare qualcosa in più per cercare di ribattere la partita, però è un punto che ci dà morale e fiducia. Purtroppo per adesso gli episodi, al minimo episodio negativo, al minimo errore di squadra, comunque veniamo penalizzati col gol, quindi è un momento che gira un po' così. Dobbiamo essere bravi a essere positivi e ribattare questo momento no. Il mister è stato bravo comunque per come ha preparato la partita, perché gli è sembrato più giusto usare il 3-5-2. Abbiamo messo, secondo me, molto in difficoltà l'avversario perché si è trovato magari impreparato e l'abbiamo anche gestita bene noi. Due sconfitte che hanno fatto male l'anno scorso, perché comunque una ci ha mandato via dai play-off, in campionato comunque ci hanno anche battuto e in Coppa ci hanno buttato fuori dalla Coppa lo scorso anno. Quindi sicuramente noi compagni che eravamo qui l'anno scorso sicuramente c'è anche qualcosa in più, cercare di essere ancora più cattivi e più combattenti su ogni pallone. Speriamo veramente di fare risultato, però secondo me il risultato non deve essere un'ossessione, perché sennò poi diventa troppo... ogni partita la vediamo che dobbiamo vincere, dobbiamo vincere, noi dobbiamo fare il nostro, dobbiamo cercare di mettere in pratica anche quello che abbiamo fatto a Mestre, però ancora di più. La Serie B corre anche il Perugia in vista del big match di sabato al Curi con il Parma. Il tecnico Giunti deve fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di Belmonte del Prete e Terrani. Il nordcoreano Han intanto è stato convocato dalla propria nazionale per due gale valide per la qualificazione alla Coppa d'Asia, gare che si disputeranno il 5 e 10 ottobre. Per tale motivo salterà la gara con la Provelcelli il prossimo 8 ottobre. Designato l'arbitro di Perugia-Parma, si tratta di Davide Gherzini della sezione di Genova. In Serie D è terminato 1-1 il posticipo della terza giornata del girone D tra Sansepolcro e Forlì, che si è giocato ieri sera al Buitoni per completare il turno infrasettimanale. Vantaggio di Parodi a metà ripresa per i Biturgenzi, pareggio di Vadi nel finale per i Romagnoli. Ambedue le squadre salgono a quota 4 punti in classifica. Domenica di nuovo in campo per la quarta giornata, dove spicca il derby Villabiaggio-Trestina. Comincia alla grande la stagione della Juniores, a 1 di Giorgio Bellucci a Todi, campo notoriamente difficile al cospetto di una squadra composta in larga misura dagli elementi classe 99. Il Fontanelle Branca si impone per 3-0, dimostrando di aver preso da subito le misure alla categoria e soprattutto certificando una condizione fisica eccelsa se rapportata al periodo. Vantaggio a metà della prima frazione, grazie al rigore realizzato da Ercoli, poi nella ripresa 2-0 firmato. Cambiotti e Trist di Rossi a completare il weekend della Juniores. Hanno contribuito anche le ottime prestazioni della classe 99 Maurizzi e del 2000 Pettinari, entrambi schierati titolari da Gianni Francioni nel match pareggiato a Massamartana. Sabato 16 settembre a Fontanelle arriva l'Olimpia Tirus, sconfitta all'esordio per 2-1 tra le Muramiche del San Sisto. Si intitola Diamo un calcio al sisma, l'iniziativa organizzata domani sera dalla sezione del Foligno dell'Ancri, l'Associazione Nazionale Cavalieri Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e dal Comune di Cascia a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Si inizia alle 18 con un triangolare di calcio tra il Cascia, l'Ancri di Foligno e la Legione Carabinieri Umbria e giornalisti sportivi Umbri del gruppo Ussi. Gran finale in piazza Garibaldi alle 21 con la premiazione delle squadre partecipanti. L'iniziativa rientra nelle finalità dell'Ancri, ovvero quella di impegnarsi in favore della comunità anche attraverso l'organizzazione di eventi di beneficenza. Chiudiamo con il volley e la Superlega perché sempre più al completo la truppa della Sir Safeti Perugia di coach Bernardi. La squadra bianconera ha di fatti iniziato la quinta settimana di preparazione accogliendo tra le proprie fila tre elementi imprescindibili come Atanasievic, Podraskanin e De Cecco. Manca nell'appello di Bernardi ancora quattro persone, gli azzurri Colace e Ricci, gli statunitensi Russell e Shaw, tutti impegnati con le proprie nazionali. Il primo impegno ufficiale sarà la Supercoppa italiana fissata per il 7 e 8 ottobre a Civitanova con Perugia che incrocerà in semifinale Trento. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A voi una buona serata. Grazie per averci seguito.